questo podcast contiene i sermoni della chiesa evangelica breccia di roma serviamo la città di roma e tramite essa l'italia in modo regale sacerdotale e profetico affinché la parola di dio faccia breccia per trasformarla buono ascolto oggi siamo al capitolo 13 dal versetto 10 vogliamo leggere dal versetto 10 al versetto 35 e poi vogliamo pregare insieme quindi leggiamo la parola del signore gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi gesù veduta la chiamò a sé le disse donna tu sei liberata dalla tua infermità pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava a dio ora il capo della sinagoga indignato che gesù avesse fatto una guarigione di sabato disse alla folla ci sono sei giorni nei quali si deve lavorare venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato ma il signore gli rispose ipocriti ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere e questa che è figlia di abramo e che satana aveva tenuto legata per ben 18 anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato mentre diceva queste cose tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si riallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute diceva ancora a che cosa è simile il regno di dio e a che cosa lo paragonerò è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto ed è cresciuto ed è diventato un albero e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami e di nuovo disse a che cosa paragonerò il regno di dio esso è simile al lievito che una donna ha preso e mescolato in tre misure di farina finché sia tutta lievitata egli attraversava città e villaggi insegnando e avvicinandosi a gerusalemme un tale gli disse signore sono pochi salvati ed egli disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo signore aprici ed egli vi risponderà io non so da dove venite allora comincerete a dire noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre nelle nostre piazze ed egli dirà io vi dico che non so da dove venite allontanatevi da me voi tutti i malfattori là ci sarà il pianto e lo stridor dei denti quando vedrete abraham isacco giacobbe tutti i profeti nel regno di dio e voi ne sarete buttati fuori e ne verranno da oriente e da occidente da settentrione e da mezzogiorno e saranno a tavola nel regno di dio ecco vi sono degli ultimi che saranno i primi e dei primi che saranno gli ultimi in quello stesso momento vennero alcuni farisei a digli parti e vattene di qui perché rode vuole farti morire ed egli disse loro andate a dire a quella volpe ecco io scaccio demoni compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno avrò terminato ma bisogna che io cammini oggi domani e dopodomani perché non può essere che un profeta muoia fuori da gerusalemme 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 che uccidi profeti e lapidi coloro che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte benedetto colui che viene nel nome del signore amén vogliamo pregare signore vogliamo chiederti di aprire i nostri cuori ti chiediamo che dio spirito santo possa operare in ognuno di noi convincendoci di peccato e mostrandoci il figlio te lo chiediamo nel nome di gesù amén bene vi faccio una domanda vogliamo iniziare questo tempo con una domanda saprete di sapreste dirmi sapete dirmi qual è la causa di dolore più comune al mondo qual è la causa di dolore più comune al mondo no no molto più semplice è il mal di schiena è il mal di schiena le nostre colonne vertebrali sono un capolavoro dell'ingegneria divina abbiamo 33 vertebre 21 paia di nervi spinali quattro curve fisiologiche muscoli articolazioni e permettono al nostro corpo di fare dei movimenti estremamente impegnativi e su tutti i piani ma non sempre funziona così vero e sono convinto che sarete d'accordo con me non sempre la nostra schiena funziona in maniera così ottimale con il tempo le curve che danno la mobilità si riducono arrivano i dolori arrivano le rigidità arrivano le posizioni di compenso e finalmente poi arriva la fisioterapia nei primi versi del testo che abbiamo appena letto luca ci presenta la descrizione di una donna con i sintomi di una malattia che si chiama spondilite anchilosante è una malattia che colpisce la colonna vertebrale questa malattia affonde unisce le articolazioni tra di loro appiana queste curve fisiologiche le distrugge impedisce il movimento normale della colonna vertebrale e nel dolore accompagna queste persone a una posizione cifotica che è questa ci si piega sempre di più verso il basso e non si riesce più a tirare sulla testa e quindi il respiro si fa pesantissimo non si riesce più a respirare bene non ci si riesce a tirare su e non si può fare altro che vedere i propri piedi e qualche centimetro in avanti come la nostra schiena tutto questo può accadere anche con la nostra salute spirituale attraverso la fede nel salvatore gesù cristo siamo stati chiamati dalla morte alla vita ma quando rifiutiamo la guida e la volontà del signore nelle nostre vite quando abbassiamo le difese contro il peccato esso altera la nostra postura spirituale tutto viene cambiato in poco tempo ci ritroviamo piegati su noi stessi iniziamo a respirare a fatica fino a focalizzarci soltanto sui nostri piedi sui nostri passi senza riuscire a guardare oltre tuttavia nel regno di dio non c'è spazio per il peccato non c'è tempo per una vita claudicante non c'è motivo valido per una visione cifotica della realtà il salvatore attraverso i versetti che abbiamo appena letto ci mostra cosa significa essere uomini e donne guariti siamo peccatori salvati che hanno sperimentato la misericordia di dio padre attraverso il sangue di dio figlio e che ora guidati da dio spirito santo possono guardare al bene del prossimo e quindi vogliamo ascoltare il signore gesù cristo e vogliamo imparare ad essere una chiesa composta da cittadini del regno di dio che sono contraddistinti dalla misericordia frutto di schiene guarite spiritualmente dritte e che guardano in avanti e vediamo insieme quindi tre aspetti tre indicazioni che ci dà il signore per essere un popolo che esercita questa misericordia vediamo il primo partiamo dal versetto 10 vigila sulle priorità vigila sulle tue priorità gesù insegnava versetto 10 in una sinagoga nel giorno di sabato il sabato era il giorno del riposo in cui agli ebrei era proibito fare qualsiasi attività lavorativa e mentre esponeva la parola di dio il signore vide una donna inferma piegata su se stessa piegata da uno spirito che la teneva intrappolata in questo stato di malattia versetto 11 la chiamò la toccò e la guarì ciò indignò il capo della sinagoga perché gesù aveva fatto una guarigione di sabato versetti da 12 a 14 ma gesù non si scomodò e condannò l'ipocrisia del cuore di questi uomini pronti a prendersi cura dei propri asini in giorno di sabato ma altresì pronti a condannare l'aiuto verso chi era nella sofferenza versetti 15 e 16 e dalle parole di gesù gli oppositori si vergognarono e la folla gioì per quello che vedeva versetto 17 nella prospettiva del capo della sinagoga fare una qualsiasi attività lavorativa di sabato significava andare contro il comandamento di dio che aveva dato sul giorno del riposo in esodo 20 durante lo shabbat donne uomini bambini ed animali dovevano cessare ogni attività e riposare come fece dio nella creazione il settimo giorno il sabato era stato fatto per il bene dell'uomo ci dice marco marco 2 27 ma ora i farisei avevano completamente invertito le priorità avevano completamente invertito il senso del sabato il giorno del riposo era stato cambiato in un giorno in cui bisognava seguire degli onerosi regolamenti che accecavano l'evidenza della verità della realtà persino l'atto miracoloso di guarire una donna afflitta da 18 anni da 18 anni da uno spirito che la rendeva inferma era stato di scandalo erano talmente offuscati avevano talmente tanto alterato le loro priorità che non riuscivano a vedere la bellezza di questa guarigione anche se come abbiamo letto il capo della sinagoga non attacca gesù la prende alla larga preferisce attaccare le altre persone gesù non attacca gesù dobbiamo pensare che la cifosi del peccato di questa persona viene fuori notando come le priorità sono state alterate totalmente gesù rompe e condanna questi schemi perversi e svela la distorsione delle priorità il messia era il messia è la raffigurazione vivente del riposo a cui i figli di dio sono invitati attraverso la croce ci dice ebrei 4 e il messia cerca primariamente il bene del suo prossimo il sabato colui che rappresentava il riposo era colui che cercava il bene del suo prossimo la postura spirituale del signore gesù cristo è perfetta ed è perfetta per vedere oltre il pulpito della sinagoga e per praticare la misericordia di dio amando toccando e guarendo la donna nella sofferenza ma anche condannando l'ipocrisia delle priorità del capo della sinagoga i cittadini del regno di dio i cittadini del regno di dio sono contraddistinti da una misericordia che vigila sulle proprie priorità e che condanna l'ipocrisia e l'ingiustizia delle priorità perverse nella fede in gesù lo spirito santo opera rendendo la nostra postura spirituale dritta mobile e ci permette di vivere vite non piegate su se stesse ma protese verso il prossimo hai fatto una valutazione posturale delle tue priorità hai fatto una valutazione posturale della tua vita spirituale vigila su te stesso chiediti se stai vivendo una vita piegata ed incentrata solo sui tuoi passi che non ti permette di guardare oltre chiediti se come il capo della sinagoga stai vivendo una vita a cassetti dove la misericordia di dio è limitata soltanto ad alcuni giorni ad alcuni momenti oppure è limitata ai giorni in cui ti senti particolarmente nel mood cosa provi quando vedi l'ingiustizia cosa provi quando vedi la sofferenza in questa città nelle vite degli altri come comunità che vuole fondare chiese in questa città stiamo studiando studiamo la parola di dio ci stiamo preparando teologicamente stiamo predicando ma non andremo da nessuna parte se la nostra postura è incentrata su noi stessi stiamo sacrificando il nostro tempo e le nostre energie per l'avanzamento del vangelo a roma ma non andremo da nessuna parte se non siamo un popolo che vive la misericordia del salvatore matteo 9 13 la misericordia che contraddistingue il popolo di dio è quella di un popolo regale che vigila sulle proprie sulle proprie priorità che vigila sulle priorità perverse della società e che si prepara a svergognare la falsità versetto 17 e questo è un popolo che offre la verità del regno e che si attiva per il bene del prossimo e quindi il primo la prima indicazione che il signore ci dà è vigila sulle priorità sulle tue priorità e sulle priorità che sono attorno a te ma andiamo avanti andiamo al versetto 18 il signore diceva ancora che il regno di dio è simile a un piccolissimo granello di senape che una volta seminato cresce e diventa un albero in cui gli uccelli trovano riparo versetti 18 e 19 il regno continua il signore nel versetto 21 è come una piccola quantità di lievito che permette a tutta la pasta tutta la farina di lievitare dopo lo scandalo della guarigione di sabato e la condanna della perversione delle priorità Gesù sta continuando il suo discorso siamo all'interno dello stesso discorso e all'interno di questa discussione da due rappresentazioni del regno di dio le priorità e la misericordia di cui abbiamo parlato nel primo punto non possono essere estrapolati estrapolati dal regno di dio non possiamo prendere il discorso sulle priorità e il discorso sulla misericordia di dio è estrapolarle tirarle fuori dal regno di dio tutto il mondo parla dell'importanza della gestione della priorità basta fare un salto in una libreria e ne troviamo tantissimi tutti si riempiono la bocca della parola misericordia ma solo il contesto del regno di dio da adesso il vero significato la misericordia che ama che cura e guarisce non può esistere senza la giustizia di dio nella persona e nell'opera di gesù cristo e non può esistere una santa gestione delle priorità senza la guida dello spirito santo che cambia la postura della nostra visione il popolo di dio vive queste realtà alla luce del regno inaugurato dal salvatore un regno partito come un piccolissimo granello di senape ma che ha raggiunto geograficamente il mondo il mondo intero atti 1 8 e che continua ad avanzare spiritualmente attraverso la potenza del vangelo il regno di dio avanza attraverso il lievito della sua parola che cresce il suo popolo che porta il suo popolo a crescere e che convince di peccato guidando verso il ravvedimento nella sua saggezza il signore ha scelto di far avanzare il suo regno attraverso l'ordinario attraverso ciò che è ordinario ha preso pescatori pubblicati peccatori e li ha trasformati in predicatori potenti per il vangelo il salvatore gesù cristo ha preso noi quando eravamo ancora morti nei fali e nei peccati ad attraverso il suo sangue ci ha inserito in una relazione pattizia con dio padre per essere portatori sani del suo regno come dice l'apostolo paolo nella seconda lettera corinzi dio ha posto il suo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a dio e non a noi dio ha scelto l'ordinario per manifestare la sua straordinaria potenza dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate anzi le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono perché nessuno si vanti di fronte a dio prima corinzi 1 la misericordia che ci contraddistingue si affida ai mezzi ordinari della grazia perché riconosce che in essi la potenza di dio può fare qualsiasi cosa a cosa ti stai affidando quindi in cosa stai confidando cosa aspetti prima di cominciare a fare la volontà del signore possiamo vivere la misericordia del regno possiamo vigilare sulle priorità anche senza la capacità di scacciare demoni anche senza straordinarie risorse economiche o mentali ma possiamo confidare sulle promesse di dio e possiamo confidare nell'opera del signore il regno di dio avanzerà in questa città anche se ci sentiamo come dei piccoli semi di senape avanzerà anche se ti sembra di non avere tempo avanzerà anche se ti sembra di non essere capace perché il signore che ha scelto l'ordinario per mostrare la sua gloria la nostra misericordia è quella sacerdotale che con la postura dello spirito santo investe si affida ai mezzi ordinari della grazia e lavora per il bene del prossimo portando la gioia della misericordia di cristo nella sofferenza e quindi il signore ci dà un secondo punto ed è quello di confidare nei mezzi ordinari perché c'è lui che è straordinario andiamo avanti nel testo al versetto dal versetto 22 Gesù viene interrogato sul numero dei salvati e non risponde a questa domanda ma sposta il focus di questa domanda possiamo definire teologica speculativa e la rende personale nel momento in cui gli viene chiesto signore sono pochi salvati lui risponde sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti cercheranno di entrare e non potranno un giorno il signore chiuderà le porte della salvezza e da quel momento nessuno potrà più entrare non ci sarà scusa che terrà non basterà essere nati cristiani non basterà aver vissuto come dei credenti non basterà aver vissuto come delle brave persone non basterà essere nati in una famiglia fedele non basterà essere stati battezzati di aver sposato una persona che ama il signore non basterà neanche aver avuto dei motivi ragionevoli delle delusioni o dell'amarezze o dei dubbi per aver rimandato i propri conti con il peccato nel giorno in cui il signore tornerà per chi è fuori dalla sua salvezza ci sarà il pianto e lo stridore dei denti mentre per chi ha creduto in gesù cristo da qualunque parte del mondo sarà seduto a tavola nel regno di dio versetti 28 30 il focus del regno di dio il centro della misericordia che ci contraddistingue è la buona notizia del vangelo la buona notizia del vangelo eppure dalle parole di gesù non sembra tanto una buona notizia vero sembra più una minaccia sembra più una minaccia di un futuro funesto ma il vangelo non è una pillola dolce esso è la buona notizia della salvezza ma passa attraverso la comprensione della pessima notizia della nostra condizione davanti a dio con il peccato di adamo abbiamo perso la relazione con dio siamo diventati creature morte spiritualmente incapaci di vivere la misericordia di dio incapaci di riconoscere le priorità del regno ed incapaci di vedere il regno di dio avanzare nell'ordinario siamo incapaci di salvarci dalla perdizione eterna ed è questo quello che ci dice il vangelo e così allo stesso modo gerusalemme costantemente rigettava la salvezza di dio abbiamo visto nel versetto 34 e così oggi la nostra città a roma continua a fare la stessa cosa gerusalemme rigettava la salvezza di dio e noi facciamo la stessa cosa in questa città ma in gesù cristo tutto cambia tutto cambia tutto si trasforma la buona notizia è che come dice l'apostolo paolo in prima corinzi in cristo siamo stati vivificati la croce è stata all'apice di tutto e gesù è l'apice della storia l'incarnazione la vita la morte la resurrezione di dio fattosi uomo ribalta ogni cosa la misericordia quindi ci contraddistingue come cittadini del regno perché non è altro che l'estensione dell'effetto del vangelo per il peccatore vivere nel regno di dio significa investire tutte le nostre forze ed energie per l'avanzamento del vangelo che trasforma le vite se qui a roma oggi per questo se qui in questo momento per questo se qui per ascoltare il vangelo di gesù cristo per vivere la chiamata profetica dell'annuncio della parola per ravvederti dalla tua postura egocentrica e per riconoscere il bisogno del salvatore fratelli e sorelle la misericordia che ci contraddistingue come cittadini del regno di dio è quella che vigila sulle priorità proprie e del mondo è quella che confida sui mezzi ordinari è quella che confida sulla verità stupenda e tremenda del vangelo di gesù cristo se abbiamo permesso al peccato di piegare il nostro spirito se stiamo guardando solo ai nostri piedi al nostro piccolo mondo ora è il momento per alzare la testa ora è il momento per andare alla luce della buona notizia del perdono in gesù cristo come cittadini del regno di dio ora è il momento di guardare la nostra città ora è il momento di guardare al bisogno della salvezza al bisogno di una riforma spirituale avanzando nello spirito nel nome del signore gesù cristo come popolo regale sacerdotale amico o amica amici se ancora non si è entrato nella porta della salvezza ascolta bene oggi è il momento ci dice il signore per investire tutte tutte le tue energie nel cercare il volto del salvatore oggi adesso domani potrebbe essere troppo tardi non ascoltare le ragioni del tuo peccato non ascoltare le scuse del tuo cuore ma ascolta la parola di dio investi le tue energie tutte le tue energie nel comprendere la buona notizia del vangelo per te e ravvediti dal tuo peccato e conoscerai la misericordia di dio e la gioia eterna per la gloria di dio vogliamo pregare quando ci troviamo davanti alla tua parola ne usciamo tremanti la tua parola è una parola forte che ci mette in discussione che ci porta a considerare la nostra postura davanti alla vita ci porta a considerare la nostra condizione spirituale ci permette di ravvederci di poter tornare a guardare in avanti a guardare lungo e poter intercettare i bisogni del nostro prossimo come il signore gesù ci ha insegnato signore ti chiediamo che l'opera dello spirito santo possa toccare i cuori delle persone che hanno ascoltato la parola ti chiediamo che tu possa portare cuori al ravvedimento signore ti chiediamo di darci la gioia e l'amore anche nel nel dover predicare parole forti parole che ci fanno paura ma sono le tue parole vogliamo ringraziarti perché noi che ti abbiamo conosciuto non abbiamo fatto niente di speciale non siamo stati migliori di nessun altro ma siamo stati graziati grazie perché signore gesù ci ha reso parte della tua opera attraverso il sangue grazie perché ci ha reso figli di dio e grazie perché lo spirito santo continua a operare in noi dacci delle vite dritte delle vite mobili e che possano essere utilizzate per trasformare questa città attraverso il vangelo per la gloria di dio amén grazie per aver ascoltato questo sermone preghiamo che dio lo usi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno in italia per altri sermoni e risorse visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it grazie grazie